Eccoli, un applauso! I nostri eroi del carnevale, il Donia Lucia 2018! Il San Biagio è sempre attivo, tranquillo, vai, ginocchio, tu non dire subito sì così, cioè, valuta un attimo, poi dopo vabbè. È giovane, è giovane! Un momento clou? Certo, lo devi anche azionare perché è un anello luminoso. Ed ecco, l'anello al dito! Adesso la CIA, come tutte le donne, farà vedere l'anello. Che fortunata! Poi, come si può, lungo i matrimoni, appena lui fa per tagliare la torta, bacio, bacio, bacio e piedi gli sposi! Bacio, 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 bacio! Ok, sedetevi pure per tagliare la torta. E l'erò qua sotto. Oddio, lei ha caldo! Allora ha detto la verità. Accetta pure la torta! taglia le due fette ci sono veramente commestibili giuro ma troppo delicato giù una bella zappettata oh d'amore ecco togliamo magari la plastica prego bravissimo sfido chiunque a fare meglio con la cetta buona mattino è bello che non mi nasce la suona